173 secondi, 5 in meno rispetto al precedente record stabilito da un pilota greco. Meno di tre minuti per percorrere quattro chilometri di curve insidiosissime domando un asfalto viscido sui cavalli della Ferrari F8 Tributo. Un nuovo record, il quinto, che il pilota Fabio Barone ha raggiunto nella cornice greca dei santuari di Meteora. Il record man romano ha ottenuto così il suo quinto record a Guinness dei primati dopo una lunga e dura preparazione e un attento studio del tracciato e dell'equipaggiamento necessario. Dopo aver battuto Google nel lunghissimo tragitto da Roma a Caponord nel 2022, aver fatto meglio del cronometro nella Trasvacarachana in Trasilvania nel 2015, sulla Tiamme Mountain Road in Cina nel 2016 e al Canyon della Val d'Eda in Marocco nel 2018, Barone ha ottenuto un nuovo record, forse l'ultimo, secondo quanto ha confessato dopo l'impresa ringraziando il suo team.